Siamo in compagnia di Angelo Nisi dell'Associazione Pietre Vive. Conosciamo tutti l'impegno dell'Associazione dell'Amministrazione Comunale di Lizzano per far sì che si soprassieda sulla decisione di chiudere il convento di San Pasquale di Lizzano. Quali le motivazioni per le quali dire no a questa chiusura e invece salvare appunto questa realtà? Salvare questa realtà perché vive un osmosi con la nostra città. I frati sono al centro delle nostre attenzioni giornalmente in quanto questi ambienti sono aperti alla comunità dalla mattina alla sera, offrono una pluralità di servizi sia sotto l'aspetto didattico con la scuola materna sia sotto l'aspetto liturgico con le funzioni ma soprattutto il fatto che ci fanno sentire veramente a casa. Qui ogni lizzanese può dire di sentirsi a casa perché il senso dell'accoglienza francescana viene esplicato, viene manifestato in maniera molto chiara ed evidente da tutti i frati che si sono alternati in questa comunità. Quindi noi vorremmo soltanto che il padre provinciale in qualche maniera possa valutare bene questa cosa.